Si sono rivisti a Taranto dopo 35 anni grazie a Facebook e all'iniziativa dell'ex sottocapo motorista navale di Oliveri Luciano Sofia, un'occasione straordinaria per una rimpatriata e per ricordare ciò che accadde dal 4 luglio al 20 agosto 1979. Per quel periodo il governo italiano decise di avviare una missione di pace nel Mar Cinese Meridionale per recuperare le migliaia di profughi vietnamiti fuggiti dalla loro nazione dopo la guerra tra Vietnam del Nord e Vietnam del Sud che coinvolse anche gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica all'improvviso e senza alcuna preparazione ma certi di dare una mano alla popolazione vietnamita come si vede dalle immagini riferite proprio a quella missione dalla Spezia e da Taranto partirono le navi Andrea Doria, Vittorio Veneto e Stromboli a bordo di quest'ultima c'era anche Luciano Sofia che ci ha raccontato la sua esperienza. Il primo giorno ne abbiamo incontrato un barcone con circa 300 persone a bordo e ovviamente le scene sono molto da tragedia, quasi da dramma e questa gente che era affamata, che era assetata il primo aiuto che dovevamo dare noi era quello di assistenza in mare cioè quello di rifocillarli di viveri e di medicinali se ne avessero di bisogno e poi qualora loro ritenessero opportuno riportarli in Italia il fatto di essere in un posto più sicuro ed essere assistiti per loro era una cosa eccezionale e loro scappavano da questi territori appunto perché per paura e per torture a bordo avevamo degli interpreti fra cui anche un prete per ogni nave ovviamente cristiano come noi che fungeva da interpretare e in tutti i casi non solo da interpretare anche da sociologo perché ovviamente erano impauriti, sprovveduti, non sapevano cosa li aspettava ma tutto sommato erano molto contenti ovviamente ci raccontavano delle loro vicissitudini, delle loro avventure meglio che avventure, disavventure e peripezie nel mare prima di agganciarsi a noi in un certo senso abbiamo anticipato noi i tempi di adesso in quanto mentre adesso le missioni sono fatte in territorio di guerra a volte anche quasi in guerra noi siamo stati i primi a fare una missione di soccorso in mare in territorio di guerra però pacifico per missione di pace grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.